buongiorno a tutti ben ritrovati qua su Radio Rosso Nera 8 marzo del duemilaventiquattro buon venerdì buona festa delle donne per per quanto ci riguarda noi da auguranti quindi questo è e Enrico Boiani ciao Enri ciao buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati e ovviamente mi unisco anch'io auguri a tutte le donne allora eh un giorno dopo una vittoria non sembrerebbe né dai nostri sguardi né dai toni dei giocatori nei post partita né dai fischi durante la gara eh è stata una serata un po' strana vinta 4 a 2 ma con dentro un po' di sentimenti quantomeno contrastanti eh vabbè Enri ti ti lascio trenta secondi poi andiamo come solito a sfogliare i giornali do l'invito è quello di scrivere qua nei commenti un po' quello che è il vostro pensiero perché realmente ieri è qualcosa di di molto personale anche magari rispetto a quello che è stata la partita quindi eh scrivetecelo pure sì mi verrebbe da dire se siete felici e contenti di aver vinto 4 a 2 ieri sera mettete like se siete abbastanza contrariati da alcune cose la prestazione vista la superiorità numerica ma siete soddisfatti nonostante il 4 a 2 mettete like a questo video mi verrebbe da dire così no quindi mettete tutti quanti mi piace innanzitutto iscrivetevi al canale attivate la campagna per tutte le notifiche se vi va potete anche condividere abbonarvi insomma fare tutte le condivisioni del caso ne abbiamo già parlato ieri guarda è un pochino più a freddo ti direi il Milan comunque ha vinto 4 a 2 e è importante per l'invista e il ritorno perché non è finita 3 a 2 per fortuna grazie a quella fiammata di Leao non è finita peggio perché in 11 contro 11 forse potrà finire anche peggio poteva addirittura non vincere forse e quindi il risultato in ottica della qualificazione è positivo di negativo c'è quel secondo tempo per quanto mi riguarda la capricciante per tanti aspetti sia dal punto di vista dell'approccio sia dal punto di vista proprio del linguaggio del corpo dei giocatori il fatto che tu abbia preso poi due gol in 10 contro 11 il fatto che tu abbia fatto due gol in tre minuti a fine primo tempo e nel secondo tempo invece che ammazzare passatevi in termini la partita sei andato sei andato quasi in difficoltà hai preso un altro gol e hai rischiato il pari da 3 a 1 rischiavi il 3 a 3 in 10 contro 11 a San Siro con lo Slavia Praga e poi in qualche modo non hai preso il terzo gol e grazie a quel signore col numero 10 hai fatto il quarto partita veramente molto strana non esultanza quasi a nessun gol giusto render alla prima perché ci ho veramente fatto caso oli festeggia cioè va sotto la curva verde diciamo così il resto dei compagni potete credere non potete credere chi era lo stadio magari l'ha visto chi magari in televisione no perché ovviamente a quel punto parte la zoomata su Giroud nessuno degli altri nove perché era l'altro Mignan ha mosso un passo di corsa per andare verso l'Ibio Giroud ma nessuno e ma ti dirò poi guarda Giroud e Rainders poi dedicano i loro gol ai loro figli no Rainders perché è appena nato Giroud uno dei figli di Giroud compieva otto anni credo ieri forse Ivan vabbè comunque chi se ne frega e l'altro Shik ha esultato la sua esultato tra virgolette la sua solita maniera no con questo gesto che fa sempre preso dal basket e il gol di Pulisi, Cleao insomma neanche lì c'è un'esultanza ha fatto specie perché due settimane fa tre settimane fa la partita con Ren che non erano neanche gli ottavi di Europa League erano i playoff e invece sembrava una partita in cui tu ti sei divertito hai giocato hai fatto il tuo eri felicissimo di aver vinto tra zero grandissime esultanze ai gol giocatori proprio tutti in partita in palla e due cose diverse ripeto e ritorno all'inizio e concludo prendiamoci il risultato in vista della partita tra sei giorni perché è l'unica cosa forse che è ok della serata di ieri ma guarda io la giro su un altro lato molto velocemente poi come solito andiamo a vedere i giornali quant'altro diamo qualche numero eccetera eccetera del discorso tattico oggi non ne parlo tanto ne abbiamo parlato veramente tanto cosa devo dire di una squadra che non è capace di fare uno straccio di un'azione con una squadra in dieci lascia il tempo che trova tanto è evidente mi ha sorpreso onestamente vista l'importanza dell'ultima coppa rimasta dell'ultimo impegno rimasto la bullia caratteriale di questa squadra che ha approcciato la partita molle che ha avuto un sussulto di cinque dieci minuti poco prima dell'intervallo si è ripresentata dopo l'intervallo ancora più spento di come aveva iniziato la partita ha preso il tre a due e se ulteriormente spenta rispetto ancora al al primo tempo all'inizio del secondo senza lo straccio di una reazione nemmeno ai fischi completamente distaccata dall'importanza dell'impegno e da quello che stava come da come stava andando la partita con un avversario in dieci che andava eliminato dalla competizione in quella mezz'ora del secondo tempo dove tu in superiorità fai altri due gol e finisce la questione è una squadra veramente un po un po scollegata prima mentalmente che poi ancora più rispetto a campo eccetera e onestamente non me lo spiego uno perché l'europa league è l'unica cosa che c'è rimasta e due un po mi sfaventa visto proprio perché l'europa league è l'unica cosa che c'è rimasta se si stacca la spina dove è l'unico momento in cui c'è ancora un po di motivazione per chiudere al meglio la stagione da cosa pensare io domenica incrocio le dita a sto punto e speriamo bene eh sì speriamo speriamo bene perché comunque cioè se scolleghi in campionato poi incontriamo anche tante squadre che si giocano la permanenza in Serie A eh da quella fine oltre che Inter e Juve di fila che ci saranno e saranno due partiti importanti incontriamo anche squadre che devono restare in questo campionato e che vorranno avranno fame e tanta nonostante giochino magari a San Siro nonostante abbiano scontri sulla carta più semplici su cui mettere più energie però eh verranno a provare a fare zero a zero comunque a prendere punti anche da te eh bisogna subito ritrovarsi e capire cosa è accaduto ovviamente noi non lo possiamo sapere eh lo sanno loro i singoli interessati il fatto che tutti vanno la corsa sotto la curva è un momento abbastanza standard no dopo le vittorie cioè si prende la rincorsa si inizia a correre verso la curva sud e quando si entra in aria si salta no poi con il mani anche lì continua a saltare a ballare dopo tutte le vittorie questa sera sono arrivati a con meno persone b quasi camminando c fanno questo saltino proprio di inerzia e di appena fanno il salto si girano torno indietro con dei volti non scuri di più ma non è che era una persona e gli altri invece lo facevano come sempre c'erano tutti così poi potrà essere perché come ha detto Pulisi come ha detto anche non so forse Adli eh che volevano fare di più sì sicuramente ci sarà quello però non lo so Milanda Matti questa è la copertina di Gazzetto dello Sport italiana nelle cup a forza quattro tra l'altro in effetti vincendo praticamente eh una buona parte delle partite di questo di questo turno l'Italia ha ancora guadagnato un po' di vantaggio nella corsa al ranking eh per ora ancora la Roma che dà una ripassata importante all'Olimpico a a De Zerbi eh esatto lo vediamo lì sotto fantastici quattro ehm velocemente Gazzetta vittoria con troppi brividi lo Slavia in dieci mette paura il diavolo rischia ma cala al poker Giroud rende eslof sì che Pulisi cance nei rossoneri ma con l'uomo in più per oltre un'ora Pioli subisce due gol eh perché questo è cosa hanno in comune eh aspetta vediamo se le riesco a recuperare al volo Atalanta Udinese Bologna Frosinone Monza Ren e Slavia Praga sono le sette squadre sette che dall'inizio del duemilaventiquattro a oggi hanno fatto due gol al Milan due gol a partita da queste squadre più gli altri gol accumulati nel nel resto del del campionato e non ricordavo poco fa il buon Gippu lo stavo vedendo un Giuseppe Pastore esattamente per chi non mastica di Twitter eh era dal duemila e uno che il Milan incassava due gol in superiorità numerica in casa quindi dal Parma di Lamouchi quindi per dire eh vabbè quattro anni ne ho cioè mi avvicino ai trenta sì in tutto questo di tutto quello che abbiamo detto eccetera come direbbe il buon Ranieri dili 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 don era lo Slavia in dieci ma come caspita si fa a fare sta partita del genere con lo Slavia Praga in dieci tutto quello che si può dire la tara di partenza è lo Slavia Praga in dieci un'ora Milano senza barricate senza perdita di tempo senza ostruzionismi una difesa serena organizzata senza nemmeno fare che so quattro più cinque davanti all'area di rigore o dentro addirittura l'area di rigore tu non sei capace di fare niente no no ma bravissimi cioè nel senso bisogna capire dove il confine tra il bravi loro e il pollinoi per me c'è tanto del pollinoi eh ma tantissimo lo Slavia ha fatto il suo cioè non è che è arrivata qua e ha inventato una scienza nuova ha fatto il suo a qualche giocatore interessante a qualche altro giocatore un po' meno e però ti ha fatto due gol in dieci uomini eh perché poi è bello dire eh abbiamo vinto eh va bene la qualificazione che ripeto il risultato è l'unica roba che prendo cioè almeno non è un tre a due almeno non hai pareggiato o perso eh però come dici tu è sempre lo Slavia a dieci da dieci in dieci le hao notte davvero dieci il portoghese ispira col telecomando Pulisic and Company insegnano se il Milan andrà a Praga con miglior sicurezza il merito della sua stella che con i suoi lampi ha messo in ginocchio gli avversari e Renders dedica il gol al figlio che è appena nato incredibile incredibile sono quasi emozionato sono commosso alle lacrime direi eh bene ma non benissimo il vantaggio è buono ma serve di più questo è il mister poi eh le pagelle invece eh eh Pioli prende sei va bene Meleao sei e mezzo Teo cinque Menian cinque e mezzo Florenzi sei Kier sei Gabby c'è vabbè perché abbiamo vinto hanno stato tutti di mezzo punto perché lì le prestazioni sono da mezzo punto sotto di più o meno tutti poi vinci quattro a due e non puoi andare a a scalpellare al ribasso il voto perché sennò sì anche Teo ha fatto una partita da 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 inizio stagione di Teo cioè eh da quanti anni tu ovviamente facendo Radio Desk sei un posto più in là e non sei inconcentrato in raccontare la partita io a inizio partito ho detto c'è un Teo molto strano e il Teo inizio stagione che si fa andare via l'uomo facile si fa pirottare dall'uomo sai quando l'uomo gli mette il peso contro Teo non vede più la palla eccetera come inizio anno mi sembrava un po' diverso qualche scivolone qualche pallone perso che ha dato lui a ripartenze importanti insomma non per mettere carico sotto Teo eh cioè era un po' il termometro morale della squadra esatto c'è uno che ultimamente è stato l'NVP direi degli ultimi mesi o quasi eh vederlo così vuol dire che c'era qualcosa che non andava eh ma com'è ma com'è Leao il linguaggio del corpo di Leao cioè non era neanche il Leao quello no un po' sorgnone alla slacking che 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 cammina ciondola e è un po' sconnesso però è sorridente è sempre lui no era proprio cioè triste cioè sembrava proprio triste anche fa un assist bellissimo per il Giroud è come se non avesse fatto niente cioè quasi no vi ricordate il primo Valotelli quando non esultava che faceva così Idem quando ha fatto quel perché per me quel gol è di Leao Idem quando fa il 4 a 2 cioè eh sembrava quasi no quando eravamo sul 3 a 2 è quello che si è attivato un po' di più perché ha provato due tre giocate tant'è che una poi gli riesce facciamo gol però senza più ripeto di 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 inerzia di impeto che di che di felicità di farlo e che di voglia di farlo è è stata una serata strana molto strana. Chiudiamo con questo Cardinali Ivro al GP d'Arabia vanno a caccia di nuovi partner ufficialmente sono invitati all'evento dove attesa anche Paolo Maldini ma questa eh e altra questione restiamo in attesa di sviluppi legati al possibile partner tal Medio Oriente che c'è e nel caso vediamo se va a smentite nel prepartita dell'amministratore delegato del Milan e smentite di aiuto che si sono un po' perse nell'etere. Enri grazie. Ciao buona giornata mi raccomando i like e mi raccomando fate gli auguri a tutte le donne eh mi raccomando. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi l'appuntamento alle tredici lunch sedici pelle rossa nera nel weekend. Alcune pirele molto interessanti soprattutto per quanto riguarda la questione societaria poi ci ritroviamo nel post partita anzi nel preview del mattino alle sette per Milan Empoli e alle diciassette per il post partita di Milan Empoli. Ciao. Autotransfer da oltre vent'anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite in caso in trasferta con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza invece riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rosso Nera collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer.